La cultura non va in vacanza e così anche ad Arezzo la Casa Museo Ivan Bruschi è pronta ad accogliere i visitatori con le aperture straordinarie per le giornate del 14 e del 15 agosto, visite ad ingresso gratuito in linea con le Gallerie d'Italia Polo Museale d'Intesa San Paolo. Alla Casa Museo dell'Antiquariato Aretina che custodisce l'eclettica collezione dell'illustre Aretino, ideatore della fiera antiquaria, sarà possibile scoprire il nuovo percorso espositivo permanente da Pontorno a Fattori, le stanze dell'arte, opere delle collezioni Intesa San Paolo. Sono infatti arrivate ben 11 opere pittoriche dal patrimonio di Intesa San Paolo che adesso saranno in pianta stabile qui alla Casa Museo e questo ci valorizza, ci arricchisce tantissimo con opere appunto che vanno dal 400 al 500, faccio qualche nome di artista importante come il Pontormo, il Busiardini e poi un nucleo incredibile di opere dell'800. Visitabile anche la mostra fotografica, la sottilità dell'aria, Arezzo e il suo territorio negli archivi alinari. Far scoprire la città, il territorio di Arezzo tra due secoli, tra l'8 e il 900 è sicuramente una cosa che incuriosisce l'Aretino ma anche il turista che viene ad Arezzo oggi nel XXI secolo e capisce le trasformazioni che poi ci sono state e tutta la storia e l'arte che contraddistingue la nostra città. Grazie a tutti!